Così come è impensabile immaginare il cinema senza la musica, allo stesso modo è difficile immaginare il cinema mondiale senza il contributo artistico e culturale che il maestro Ennio Morricone vi ha apportato. La genialità e la passione delle sue opere hanno influenzato cineasti, produttori, musicisti ed artisti di tutto il mondo. Le sue opere rappresentano un valore unico e inestimabile che caratterizzano esclusivamente la grande musica, simbolo e raffigurazione dell'inarrivabile dimensione artistica raggiunta dal genio del maestro, patrimonio dell'umanità e presidio culturale dell'Italia. Siamo pertanto onorati di premiare un artista il cui spessore artistico e culturale coincide con quello etico di un grande uomo. Grazie Grazie Grazie